Tra pochi giorni inizia l'anno scolastico, all'orizzonte alquanto turbolento in Sicilia, tra mobilità, crisi finanziaria e caro libri. I dettagli, Gero Miciche. In Sicilia si rientra a scuola il 14 settembre, anche se alcuni istituti forti dell'autonomia anticiperanno l'inizio delle elezioni. La stagione scolastica non si profila del tutto serena in Sicilia, anzi tutt'altro. A molti insegnanti precari non è stato concesso il trasferimento, le scuole sono in deficit finanziario e nel frattempo il caro libri preoccupa le famiglie. Nella scuola primaria i ricorsi praticati contro la mobilità imposta dalla legge 107 ha sortito risultati poco soddisfacenti. Sui 100 circa che hanno ottenuto l'avvicinamento alla propria residenza, 20 lavoreranno in Sicilia e gli altri percorreranno solo meno strada dalla Lombardia alla Toscana o dal Piemonte al Lazio. E i sindacati di categoria commentano che le conciliazioni sono poche e sono state attribuite senza seguire un criterio apparentemente logico, ma il criterio del male minore. Inoltre un'altra grave tegola che si abbatte sui dirigenti scolastici italiani a pochi giorni all'inizio delle elezioni è quella della difficoltà nel riuscire a pagare le utenze. Infatti gli stessi dirigenti scolastici hanno appena incontrato il governo regionale e hanno confermato la situazione critica con molte diffide da parte dei fornitori di energia, acqua e telefonia che chiedono di essere pagati. I dirigenti scolastici, non essendoci ancora i liberi consorsi al posto delle province abolite, si sono rivolti alla regione Sicilia che a sua volta, non essendo ancora approvata la manovra finanziaria di Abiz, rinviata dopo le ferie dell'Assemblea, non ha stanziato i 19 milioni di euro da destinare alla scuola. E in ultimo il caro Libri 2016 che in media in Sicilia è di 320 euro, a cui va aggiunto il costo del corredo scolastico di circa 200 euro. Sia i ragazzi che i loro genitori tentano di rimediare cercando libri usati sul web o recandosi nei negozi o nelle cartolibrerie che sempre più spesso negli ultimi anni, a causa della perdurante crisi, riservano ampio spazio alla sezione dei libri usati.